Ciao ragazzi, questa sera video un po' più rilassante, però l'argomento è comunque importante, parliamo di array, di funzioni su array. Dato che PHP mette a disposizione moltissime funzioni per lavorare sugli array, nel caso in cui dobbiamo effettuare un'operazione su un array, prima di creare una nostra procedura, controlliamo se non c'è già una funzione disponibile di PHP. Funzione che è sicuramente più veloce ed efficiente rispetto a un codice che possiamo scrivere per effettuare quell'operazione. Ho già definito degli array all'interno del file index.php e ho indicato una serie di challenge, in realtà sono challenge davvero molto semplici, però ci permettono di utilizzare alcune funzioni sugli array. Allora la prima richiesta è controllare se questo è un array, per farlo semplicemente facciamo un overdump, utilizziamo la funzione isArray e passiamo in input l'array dollaronumeri. Perfetto, salvo ed aggiorno ed abbiamo correttamente true. Ora vogliamo aggiungere il valore 5 a fine dell'array. Per farlo semplicemente abbiamo la funzione array push. Quindi facciamo array push, passiamo come primo argomento l'array dollaronumeri e come secondo argomento il valore 5. E adesso facciamo vardump di dollaronumeri. Salvo ed aggiorno e vediamo che abbiamo un array con 4 elementi, l'ultimo elemento e l'elemento con valore 5, che abbiamo inserito grazie ad array push. Ora vogliamo aggiungere i valori 0 e 1 ad inizio array. Mi confondo sempre tra array unshift e array shift. Dato che shift sta per rimuovere, se vogliamo aggiungere degli elementi all'array sicuramente non dobbiamo utilizzare array shift, ma dobbiamo utilizzare array unshift. Quindi facciamo array unshift. passiamo come primo argomento dollaronumeri e come secondo argomento passiamo il valore 0 che vogliamo aggiungere ad inizio dell'array e come terzo argomento passiamo il valore 1. Perfetto, salvo e aggiorno. Vediamo che adesso abbiamo un array con 6 elementi i cui valori vanno da 0 a 5. Perfetto, ora rimuoviamo degli elementi da quest'array. Dobbiamo rimuovere l'ultimo elemento. Per farlo semplicemente utilizziamo la funzione array pop. E vediamo che l'ultimo elemento viene correttamente rimosso. Ora vogliamo rimuovere il primo elemento dell'array, quindi vogliamo rimuovere questo elemento. Dato che con array unshift inseriamo degli elementi, certamente con array shift andiamo a rimuoverli. Quindi facciamo array shift dollaronumeri. Salvo ed aggiorno e vediamo che l'elemento con valore 0 è stato correttamente rimosso. Molto bene, abbiamo superato il primo gruppo di challenge, quindi possiamo cancellare questo codice. Per quanto riguarda l'array dollaro page, ho utilizzato questa volta la funzione array, appunto per creare l'array. È un array chiaramente associativo. Abbiamo tre elementi, un elemento con chiave title, con valore home page, un elemento con chiave body e questo è il valore, un elemento con chiave footer e il valore è copyright 2022. Che cosa ci chiede la challenge, la prima challenge? Ci chiede di inserire i valori in un array dollaro values. Quindi dobbiamo prendere soltanto i valori dell'array e inserirli in un altro array. Quindi facciamo dollaro values, utilizziamo la funzione array values. perfetto, facciamo vardump di dollaro values, salvo ed aggiorno e vediamo che abbiamo correttamente tre elementi con valori, i valori di questa array. Home page, contenuto della home page e copyright 2022. Perfetto, adesso dobbiamo inserire soltanto le chiavi all'interno di un array dollaro keys. Anche questo è molto semplice, utilizziamo la funzione array keys. e facciamo vardump di dollaro keys. Salvo ed aggiorno ed abbiamo title, body e footer che sono le chiavi di questa array. Perfetto, adesso abbiamo una challenge un po' più complessa, in realtà anche questo è semplice. Dobbiamo trasformare i valori di dollaro keys, ovvero questi valori, in due punti dollaro keys. Ovvero, se qua abbiamo title, vogliamo creare un array che abbia come primo elemento il valore due punti title, il secondo elemento vogliamo sia il valore due punti body e il terzo elemento vogliamo che sia la stringa due punti footer. Per farlo utilizziamo semplicemente la funzione array map affinché possiamo scorrere su tutti questi elementi e possiamo effettuare un'operazione su ogni elemento di questa array. Quindi facciamo dollaro keys holder, utilizziamo la funzione array map. Ad array map passiamo come primo argomento una callback oppure l'indicazione di una funzione esterna, ma utilizziamo una callback, quindi inseriamo una funzione direttamente come argomento. Utilizziamo però le arrow function, quindi abbiamo una sintassi abbreviata, facciamo fn. Dato che la funzione riceverà di volta in volta un elemento dell'array indicato come secondo argomento dell'array dollaro keys, facciamo fn di dollaro key e poi utilizziamo una freccia, facciamo uguale, maggiore e senza indicare return facciamo. Apriamo i doppi apici, facciamo due punti, dollaro key. Quindi se questa funzione riceve di volta in volta questi valori, vuol dire che riceverà questo valore title e ritornerà due punti title e così via per gli altri elementi. Perfetto, facciamo var dump di dollaro placeholder. salvo ed aggiorno ed abbiamo correttamente due punti title, due punti body e due punti footer. Perfetto, ma possiamo cancellare questo codice. Abbiamo completato anche queste challenge. Ora abbiamo un array dollaro check con un singolo elemento con chiave numero stringa e il cui valore è una stringa. abbiamo uno spazio iniziale, poi abbiamo uno e poi abbiamo uno spazio finale. La prima challenge di questo gruppo di challenge è controllare se la chiave numero stringa è presente. Facciamo direttamente un var dump, utilizziamo la funzione array key exist. Mettiamo la S finale e passiamo come primo argomento questa volta la chiave che ricerchiamo. ricerchiamo, ricerchiamo la chiave numero stringa e passiamo come secondo argomento l'array nella quale ricerchiamo la chiave. perfetto, salvo e aggiorno. Abbiamo correttamente true perché questa chiave è presente. perfetto, adesso vogliamo controllare se il valore 1 come numero è presente all'interno dell'array. Utilizziamo la funzione in array. passiamo come primo argomento il valore che ricerchiamo. Indichiamo 1 come numero. perfetto, salvo e aggiorno. E vediamo che abbiamo true, anche se abbiamo ricercato un valore 1 numerico, ma qui abbiamo una stringa anche con degli spazi. Se vogliamo lavorare in modalità strict, indichiamo come terzo argomento di in array true. Perfetto, adesso salvo e aggiorno. E vediamo che questa volta abbiamo false. Quindi se non vogliamo che PHP effetti conversione automatica dei valori, al fine di confrontarli indichiamo true come terzo argomento. Perfetto, possiamo cancellare questa istruzione. e passiamo a quest'altra semplice challenge. Vogliamo unire gli array in un unico array. Quindi vogliamo unire questi tre array, A, B e C, in un unico array. Quindi facciamo $d, utilizziamo semplicemente array merge. e passiamo in input $a, $b e $c. Facciamo overdump di $d. Ed abbiamo un array con tre elementi, con i valori 1, 2 e 3. Perfetto, passiamo all'ultima challenge. Vogliamo semplicemente invertire l'ordine degli elementi di quest'array. Per farlo utilizziamo la funzione array reverse. E quindi facciamo $invertito uguale array reverse. E passiamo in input $reverso. Perfetto, facciamo una vardump. prima di $reverso. E poi facciamo una vardump di $invertito. Salvo ed aggiorno. Vediamo che abbiamo inizialmente l'array con gli elementi 1 e 2. E poi abbiamo gli elementi invertiti 2 e 1. Notiamo che le chiavi non vengono preservate. Ovvero all'interno di quest'array, per quanto riguarda il valore 2, a chiave 1. Mentre all'interno dell'array invertito, l'elemento con valore 2, a chiave 0. Se vogliamo preservare le chiavi, passiamo come secondo argomento di array reverse, true. Perfetto, salvo e aggiorno. E vediamo che adesso abbiamo Valore 2, chiave 1 Valore 2, chiave 1 Anche per stasera è tutto. Se vi fa piacere, ci ritroviamo domani sera.